Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Incendio doloso a Fano TV, un uomo ha dato fuoco all'ingresso dell'emittente nell'orario in cui va in onda il telegiornale Nessuno è rimasto ferito, la procura ha aperto un'inchiesta Tanti attestati di solidarietà per il vile atto incendiario che ha colpito l'informazione locale Moltissimi messaggi d'affetto e di vicinanza dei telespettatori, della politica e del mondo dell'informazione Il Tardelle Marche ha riconosciuto ricevibile il ricorso presentato dal Comitato Montemaggiore Resiste Fissata al 12 maggio l'udienza a distanza Cento anni di storia nei cieli, nasce a Fano l'Aeroclub Che si occuperà anche di protezione civile e operazioni di recupero e ricerca Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa edizione del telegiornale Occhio alla Notizia che questa sera come sempre si apre con la cronaca, un fatto che ci riguarda da vicino È un incendio, un incendio che poteva avere conseguenze inimmaginabili, che ha interessato la nostra emittente Tutti i particolari in questo servizio Il piromane arriva alle 20.53, ripreso dalla videocamera di sorveglianza posizionata all'ingresso dell'emittente In mano ha una tanica di benzina, con passo deciso va dritto verso il portone d'ingresso Sa bene che a riprenderlo c'è una telecamera che registra ogni suo movimento Per questo, quando è più vicino all'obiettivo, gli viene quasi distinto coprirsi il volto con una mano Poi inizia il lavoro, versa il liquido infiammabile nella fessura della porta per assicurarsi che entri all'interno dell'edificio Ad un certo punto alza anche lo sguardo per vedere se l'operazione sta riuscendo Infine getta la benzina che resta nella tanica per provocare la fiammata e crea una sorta di miccia per l'accensione in sicurezza Versato il liquido, prende frettolosamente dalla tasca un accendino e dà fuoco Poi si dà la fuga, uno scatto fulmineo che fa presagire che dietro quella sagoma si nasconda un soggetto giovane e molto agile Intanto le fiamme raggiungono i tre metri d'altezza, anneriscono completamente la facciata esterna dell'edificio Penetrando all'interno della reception e bruciando per fortuna solamente un tappeto ed un portavaso A dare l'allarme sono tre ragazzi che 50 minuti dopo l'incendio, quindi alle 21.40 Notano il muro esterno e il portone d'ingresso completamente neriti dal fumo E quando vedono le fiamme nella sala d'ingresso ancora accese Decidono di chiamare il 115 dei vigili del fuoco che poco dopo arrivano con due mezzi Aprono la porta e spengono quel che resta dell'incendio Sull'episodio indaga la procura di Pesaro che ha affidato le indagini al commissariato di Fano Gli agenti per tutta la mattinata hanno ricontrollato palmo a palmo la zona attorno alla sede I filmati di altre telecamere, comprese quelle dei distributori self-service di carburante Per il momento ogni pista resta aperta Da quella del mitomane che ha agito per vedere in diretta l'effetto che fa interrompere un telegiornale appiccando un incendio Al gesto, forse su commissione, di qualcuno che si è sentito, per così dire, offeso da uno dei nostri tanti servizi di cronaca E che in questo modo abbia voluto farcela pagare pensando di farci fare la fine del topo Tanti, tantissimi i messaggi di solidarietà, di vicinanza, di affetto Soprattutto di voi telespettatori e poi dal mondo della politica, dai colleghi dell'informazione Insomma tutti stretti e vicini a Fano TV Incendio doloso a Fano TV Un uomo ha dato fuoco all'ingresso dell'emittente televisiva Nessun ferito, la procura di Pesaro ha aperto un'inchiesta Sgomento, indignazione e rabbia Ma anche sostegno e affetto Ci sono tutte le gambe e le sfumature dei sentimenti Che in una vicenda, come un atto così violento per il significato intrinseco che porta Possono essere contemplate Rai 3 Marche titola nel sommario e riporta nel Tg delle 13 ed in quello della sera Quanto accaduto Dopo la rassegna stampa di questa mattina Il tentame mediatico su quanto accaduto a Fano TV Ha attraversato anche i confini regionali Ed è arrivato agli organi di stampa azionali Dall'onorevole Lara Ricciatti giunge in redazione prestissimo il suo messaggio di condanna Con l'augurio che il responsabile venga presto assicurato alla giustizia Il sito di Repubblica Online, edizione di Bologna, riporta l'episodio Anche altre testate online riferiscono nelle aperture del mattino La vicenda dell'incappucciato piromane, compresa l'ansa Il Corriere Adriatico, il Carlino e il Messaggero parlano di assalto incendiario Come anche i siti locali che oltre che riportare l'accaduto Attraverso le redazioni esprimono solidarietà all'emettente E come hanno fatto anche Vera TV e Onda Libera E i siti web locali Quando avviene un atto di intimidazione come questo Ad un emettente come Fano TV Che presta dal mio punto di vista, ma non soltanto dal mio Un servizio pubblico, perché dà informazione E fra l'altro è un servizio molto apprezzato dalla città Sono atti che vanno condannati senza sé e senza mai Come sindaco mi sento molto vicino a Fano TV E quando dico Fano TV dico tutti, anche tutte le persone Penso di esprimere anche il pensiero dell'intera comunità di Fano I sindaci del territorio da San Lorenzo in campo a Pergola Hanno mandato messaggi per esprimere il loro sconcerto Il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, Renato Claudio Minardi Si è voluto accertare personalmente di quanto accaduto Visitando la sede in via Borsellino E ha espresso solidarietà e rammarico per quanto accaduto A nome della regione Marche Come ha fatto anche un altro consigliere regionale, Boris Rapa Ma il mondo politico tutto ha espresso solidarietà a Fano TV Con messaggi di profondo appoggio e condanna Verso il responsabile di questo gesto Le mail di redazione, i telefoni aziendali e personali Di ognuno della redazione Sono stati inondati di messaggi per tutta la giornata Uno dei primi a giungere in redazione poco dopo le nove È quello dell'assessore Mascarin Come pure anche Cristian Fanesi Ma tutta la giunta e il consiglio nell'arco della mattinata Dal centro-destra al centro-sinistra ai 5 stelle Ha espresso un caloroso appoggio e tanta solidarietà alla redazione Con una locuzione che spicca su tutte quelle espresse Vile atto Le associazioni e i locali anche mandano per voce dei loro rappresentanti Appoggio e solidarietà come l'UMPLI per voce del suo presidente Damiano Bartocetti Ma poi ci sono lungo il corso di tutta la giornata Tutti i nostri telespettatori Tantissimi che utilizzando ogni supporto immaginabile Dai siti web ai social Facebook e Twitter Si sono dati un grande affare ad esprimere tutto il loro sentimento Il calore e il supporto di questo lungo giorno dopo di Fano TV E anche il gruppo cronisti marchigiani Per bocca del suo presidente Raffaele Vitali Ha espresso la propria solidarietà a tutti i lavoratori dell'emittente E ha invitato le autorità di polizia a fare chiarezza sull'episodio Per chiudere questa pagina che ci riguarda Consentitemi soltanto di ringraziare i vigili del fuoco che sono intervenuti E poi la polizia che sta indagando Sta lavorando tantissimo in queste ore Per cercare di dare un nome e un volto all'autore di questo gesto E adesso cambiamo pagina invece Andiamo avanti e parliamo di quello che è successo questa mattina ad Ancona Al Tarra, al Tribunale Amministrativo Regionale Perché ci sono delle buone notizie Almeno per chi è contrario alla fusione Con gli altri comuni di Saltara e Tavernelle Vale a dire la fusione Colli al Metauro Ci sono delle buone notizie per il comitato Che si chiama Montemaggiore Resiste Siamo in collegamento adesso E lo dovremmo avere al telefono Buonasera Ecco, con uno dei responsabili di questo comitato Che immagino questa mattina ha partecipato ad Ancona A questo incontro Allora, com'è andata e ci spieghi un po' come è andata Che cosa succederà adesso, nei prossimi giorni? Sì, stamattina all'udiente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Ecco, il collegio difensivo che rappresenta Montemaggiore Resiste Oltre a 275 cittadini che hanno sottoscritto Il ricorso ha valutato l'opportunità di poter discutere nel merito La questione della fusione in un tempo molto breve Tanto che l'udienza è stata rinviata il 12 maggio Per avere però non più una discussione sulla sospensiva Quindi dei provvedimenti Ma proprio sul merito dell'intera dicenda Quindi si avrà il 12 maggio una sentenza sul merito del ricorso Quindi non solo sulla sospensiva Quindi oggi si è fatta questa scelta di rinunciare a un provvedimento sulla sospensiva Pur di avere una discussione nel merito entro breve termine Perché per chi conosce un po' i tempi dei Tribunali Amministrativi E avere un ricorso depositato a febbraio con una sentenza finale a maggio dello stesso anno Ecco sono cose che sono risultati importanti Questo evidentemente perché ci sono anche le elezioni dove comunque bisognerà dare un nome al futuro sindaco E se rimarrete della partita, se rimarrete all'interno del Colle del Metauro Insomma bisognerà comunque fare presto, no? In questo senso Assolutamente, i tempi sono comunque stretti Va detto comunque che il ricorso riguarda dei libri del Comune di Montemaggiore Quindi il percorso sarà comunque molto lungo E richiede anche ulteriori passi a livello giudiziario per intervenire sulle elezioni Quindi per il momento Ruggeri voi rimarrete dentro Colle del Metauro Chiaramente non succederà nulla da questo punto di vista Andrete a votare, farete tutto quello che c'è da fare Poi nel caso vedrete insomma più avanti Questo sì, adesso si valuteranno a seconda degli eliti i passi da fare Ecco quindi le eventuali elezioni Ecco avete organizzato una riunione Ruggeri Avete organizzato un incontro, un incontro pubblico Nel quale informerete evidentemente tutti quelli che la pensano come lei Quando? Avete già una data? Guardi, no perché purtroppo siccome volevamo far partecipare il Collegio Difensivo Ecco dovevamo un attimo concordare con loro Va bene, allora ci informerete sulla data Grazie, grazie, buon lavoro, buonasera Allora A Fano, all'aeroporto questa mattina c'è stato un incontro importante Perché si è dato ufficialmente il via al nuovo Aeroclub Fano Il mondo del volo da di Porto Fanese da qualche giorno ha cambiato pelle Non è diventato più grande perché lui è già di suo La tradizione aeronatica di Fano ha radici profonde sia sportive che di apparato È dal 2006 che i componenti del club fanese sono al servizio dello Stato Con il nucleo aereo di protezione civile per operazioni di recupero e ricerca Una delle quali il sostanziale apporto con un equipaggio nella cattura dello speronatore dei carabinieri di Pergola Ciò che cambia è la forma giuridica Ma la forma in questo caso è anche sostanza Per tutta una serie di implicazioni pratiche Che questo comporta in maniera estensiva Ed aggiuntiva alla già proficua attività del club E come ci dice il suo presidente, il comandante Davide Cecchini Riusciamo grazie a questa federazione a insaldare in maniera formale il supporto della aeronatica militare Con le nostre risorse e di conseguenza alzare notevolmente la professionalità Di quello che è appunto il supporto che riusciamo a dare noi dal cielo Non solo all'attività terrestre ma anche all'attività di volo Questa mattina in uno degli hangar dell'aeroporto di Fano Alla presenza dei rappresentanti delle maggiori istituzioni Civili, militari e religiose Il presidente ha presentato questo nuovo corso dell'aeroclub fanese Una presenza estremamente gratificante e di sostanza Quella del colonnello e dei suoi uomini Con un esemplare di A109 della Marina Una delle macchine migliori al mondo per questo servizio di ricerca e soccorso Provenienti dalla base di Cervia Già da molti anni esiste questo gemellaggio tra l'aeroclub di Fano In particolare quello che allora era l'ottantatresimo centro con Bassar di Rimini Un centro che poi si è spostato su Cervia nel 2010 Ma comunque che ha sempre mantenuto una comunità di intenti E anche uno scambio continuo e virtuosissimo di professionalità, di esperienze E noi abbiamo messo naturalmente a disposizione le nostre conoscenze Sul campo della sicurezza del volo e su qualche procedura E naturalmente i piloti di Fano ci hanno messo il loro entusiasmo E la loro generosa voglia di collaborare Quindi è sempre stato veramente un connubio virtuoso Non li dimenticherò mai Con queste parole una volontaria Che appena rientrata da un'esperienza in Africa Racconta così la sua avventura, la sua storia La sua appunto esperienza con l'Africa Chiama All'inizio era solo la curiosità che ha spinto Elisa a partecipare al corso di preparazione per volontari Organizzato dall'Associazione Africa Chiama Che si tiene due volte all'anno, a marzo e a ottobre E che parte proprio oggi, fino a domenica prossima Ho deciso di andare in Tanzania E niente, queste tre settimane ho visto tutto il lavoro che c'è da fare là Per i bambini, i bambini che hanno dei problemi di disabilità Bambini che hanno problemi di alimentazione E quindi il lavoro è tanto Però sono sempre tutti in un clima molto sereno Quindi è un bel paese anche da visitare Dal corso ogni anno vengono inviati 20 volontari Che per circa tre settimane vanno ad aiutare gli organizzatori già presenti in Kenya, Zambia e Tanzania Io giocavo più che altro con bambini perché non ho competenze particolari nel settore Però seguivo le operatrici che facevano fisioterapia ai bambini Seguivo appunto Paolo e Alessia nelle attività organizzative Guardavo anche solo gli interventi dei fisioterapisti e dei terapisti nutrizionali nel loro lavoro Più che altro ero lì per assimilare notizie da poi raccontare qua Allora, al mio ritorno da questa esperienza ho deciso che dovevo assolutamente organizzare qualcosa Nell'immediato per aiutare il centro Sambamba, insomma il centro che ho visitato io E quindi ho organizzato una cena il venerdì 31 a Fano Per raccogliere fondi da donare poi al centro Sambamba Quindi chi è interessato a venire a questa cena cucinerò io piatti africani Basta che contatta l'associazione e si prenota e vengono a cenare con noi Insomma facciamo un po' di festa africana Per aiutare l'ISA e l'associazione Africa Chiama nella realizzazione dei progetti E diventare quindi parte attiva di questa onlus È possibile devolvere il proprio 5x1000 Compiendo una buona azione che non costa nulla Il 5x1000, un'occasione per donare senza dare Non costa niente Ma per i nostri bambini in Africa è cibo, scuola e salute E questo era il nostro ultimo servizio Grazie per aver seguito il nostro telegiornale Da tutti noi di Fano TV l'augurio di una buona serata Arrivederci